Mici Youtube, Pepino Udacia, allora ragazzi, il giorno dopo la partita è stata al Curcio di Picerno, ragazzi, una sconfitta al 95esimo, un'ennesima sconfitta al 95esimo che ci fa male, ragazzi. Sì, mancano tre giornate alla fine, il Cerniola deve fare veramente un miracolo adesso per cercare di andare ai play-off. L'obiettivo è crederci, ma ragazzi, dobbiamo nettamente cancellare questa stagione perché ragazzi è andata non come ci si aspettava dalle previsioni dopo un quinto posto dell'anno scorso. Eravamo stati la rivelazione del girone l'anno scorso, quest'anno ragazzi, troppi errori di impostazione, troppi errori a livello difensivo, ragazzi. Non voglio dare colpa a Raffaele perché ragazzi è appena arrivato, è un allenatore con voglia, però ragazzi gli stessi errori si sono visti anche a Picerno. È sicuramente un Barosi, ragazzi, che lo devo dare colpevole come Milinkovic e Savic in Empoli Torino. Ragazzi, purtroppo ha fatto i serrori Barosi, soprattutto sul primo gol e anche sul secondo, secondo me, poteva fare il più. E allora vado con le pagelle, partendo da Barosi, proprio Barosi, ragazzi, Barosi voto 5, ragazzi. Il peggiore, ha fatto una partita veramente negativa, doveva giocare Krapikas e qui l'errore forse è stato di mister Peppe Raffaele, ragazzi. Andiamo avanti con la difesa, Gonnelli voto 7, ragazzi, il migliore in difesa. Tra le forse aver fatto uno o due errori, ma è stato il migliore in partita. Poi Coccia, voto 5 e mezzo, anche lui partita negativa. Vicentin, voto 6, ragazzi, a malincuore devo dare 6 a Santiago, perché comunque ha fatto una partita sufficienza, ma di più non posso dare. Passiamo al centrocampo, a partire da Bianco, voto 4, ragazzi, Bianco ha sbagliato tutto, impostazioni, quindi tutto. Tascone, voto 7, il migliore, forse a centrocampo, si danna, ma purtroppo non basta. Poi Bianchini, voto anche lui 6 e mezzo, una buonissima partita. Russo, voto 7, anche lui ha fatto il gol, ma era in fuorigioco. Leonetti, voto 4, Vutai, voto 7, il gol su rigore, ma ha dato l'anima. D'Andrea, voto 5 e mezzo, Malcore, voto 5. Non so chi mi sono dimenticato, le do un po' al volo queste pagelle. Mister Raffaele, voto 6. Ci si aspettava di più, ragazzi, ma a prescindere comunque dalle pagelle, è un cerignola che comunque deve immediatamente cancellare questa stagione. e dobbiamo ripartire dal prossimo anno, ragazzi, fare quello che ha fatto la Juve Stabia quest'anno, cioè essere rivelazione del campionato. Io, sinceramente, l'anno scorso mi aspettavo un cerignola protagonista quest'anno di questa Lega Pro, ma mi sono sbagliato, ragazzi, mi sono sbagliato. Allora, ragazzi, ci sarà l'episodio dei dialetti. Partirò dal dialetto catanese e il dialetto palermitano. Quindi partiamo con il dialetto siciliano, andando a fare un po' di frasi e poi facciamo la frase suddetta in italiano e la frase suddetta in dialetto, sia un po' catanese e sia un po' siciliana, palermitana. Poi farò la Puglia, ragazzi, con il dialetto foggiano e il dialetto magari cerignolano e il barese. Andrò un po' più sulle mie parti della mia... della regione Puglia e poi andremo avanti, ragazzi. Da mercoledì dovrebbe iniziare, o martedì o mercoledì, domani o mercoledì, iniziere a uscire l'episodio sui dialetti. Quindi ci vediamo per i prossimi video. Bella a tutti che pinautace. Ragazzi, continuate a seguire Carriera F1 con Riccardo e Michele. Andrò a registrare stasera gli altri episodi. Seguite la Carriera F1. Bella a tutti, pinautace.